Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Niente. Nekolica giornata. Grazie a tutti. 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 Ok? Grazie a tutti. Yeah? Yeah? Grazie a tutti. Yeah? 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 D jebilo? Nekodviš? No? No? Minorito, rarko. Otkin ću ti sve. Teta...? Nekodviš. Nekodviš? Nekodviš. 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 Agoda. Ho scoperto, ho scoperto da un'esplice. Vi sapete che ci sono stati qui, e ora tutti pensano che sono io. E' perché non sono arrivati, e non sono arrivati a fare un'esplice. C'è un esempio che è stato un'esplice? E' 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 stato un'esplice? No,样almente. E' stato un'esplice adesso cosa è stato le persone già sono stati. Perché tutti Wit Mackandini della did adalah una della la questa. E' stato una terapia del centro. O Além di accinerare? La cosa è stata di centro? O Perché si stavo in centro. Oggi si stavano in centro anche in centro a sotto in centro. Sono tutti più in centro. N Frauco l'abbò våraохimetria non si se ne przy γ mi vesti. E' stato un'esplice. I' stato un'esplice. Grazie.